Ed eccomi qui con il terzo video, un video dedicato ai colori, in particolare al colore rosso. Il colore rosso è il colore della centratura, il colore dei piedi per terra, della nostra attività quotidiana, di come ci poniamo nei confronti delle altre persone, dell'energia che mettiamo nell'affrontare le cose e anche il colore del radicamento, il colore dedicato al primo chakra, quindi del radicamento, della sopravvivenza, del danaro. Nella versione più simbolica è il colore del potere, della maestà, della passione e anche dell'amore. L'amore cristico si identifica col rosso, quel tipo di amore che non ha barriere, non ha giudizio, non ha convenzioni e dà tutto senza aspettarsi niente in cambio. Nel riflettere in questi giorni su questo mio soggiorno al mare vorrei ricordarvi che anche se non specificatamente rosso, comunque tutte le volte che noi siamo connessi con l'esterno, con la natura, ecco che agiamo nell'energia del rosso, nell'energia del radicamento e la connessione attraverso lo stare all'aperto, nel contatto anche con il mare o con la montagna o con la terra, con la sabbia, ecco che noi applichiamo quelle regole di connessione con madre natura, con madre terra e con l'universo. Ogni volta che avete bisogno di essere sostenuti energeticamente potete utilizzare l'energia del rosso. Come farlo? Semplicemente mettendovi un segnale di colore addosso, anche un semplice fazzoletto in tasca è sufficiente. Questo ci ricorda anche che stiamo lavorando con quel tipo di energia. Oggi quindi vi mando tanta luce rossa e vi auguro una buona giornata. Vi ricordo di mettere i vostri like se questi video vi piacciono e soprattutto di iscrivervi al canale così potete mantenere i collegamenti. Ciao a tutti!